Nella settimana che va dal 23 al 27 ottobre del 2023, il clima nell'ambientazione della promessa diventa carico di tensione e avvolto da un mistero palpabile. Un'improvvisa ondata di shock attraversa tutti i protagonisti quando ricevono la devastante notizia. Salvador, una figura centrale nella narrazione, è stato ucciso in un violento conflitto bellico. Nonostante il dolore e la tristezza che si diffondono come un velo oscuro, un tenue filo di speranza persiste in alcuni cuori, un desiderio segreto che sussurra che forse, contro ogni apparenza, Salvador potrebbe ancora essere vivo. Per comprendere meglio gli eventi che stanno avvenendo ora, è essenziale fare un balzo all'indietro nella trama, per esplorare le radici dei legami che uniscono questi personaggi e i motivi che li hanno portati a questo punto critico della storia. Un ritorno alla promessa. Ogni volta che Candela e Simona si ritrovano nello stesso luogo, nell'aria si avverte un energia elettrica che non passa inosservata. Prima di immergervi completamente in questa intrigante narrazione, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare le notifiche. Grazie per la vostra attenzione. La tensione tra queste due donne è diventata il fulcro di tutte le conversazioni, e numerosi tentativi di riavvicinamento e riconciliazione sono stati fatti, ma finora senza successo. Mentre questo dramma si svolge sotto gli occhi del pubblico, un altro, ancora più oscuro e sinistro, sta gradualmente prendendo forma negli angoli più oscuri di questa storia. Lorenzo e Cruz, immersi in un intricato gioco di potere e di eredità, tramano segretamente per eliminare la baronessa Elisa, ma qui entra in gioco un colpo di scena sorprendente. Lorenzo, agendo di nascosto, ha instaurato una relazione romantica con Elisa, creando così un legame segreto tra loro. Conscio dei pericolosi piani di Cruz, Lorenzo mette la donna al corrente della minaccia che incombe su di lei. Quando Cruz, in un tentativo spietato di avvelenare Elisa, incarica Petra di preparare un tè mortale per la baronessa, quest'ultima, grazie alla preziosa informazione ricevuta, rifiuta astutamente l'offerta, riuscendo a sventare il suo sinistro progetto. L'intrigo si fa sempre più intricato, mentre le alleanze segrete e i pericoli imminenti cominciano a delinearsi, gettando un'ombra sinistra sulla promessa. In mezzo a tutti questi intricati eventi, fa il suo ingresso sul palcoscenico Blanca, una fotografa con un passato avvolto nel mistero, che sembra avere legami misteriosi con Manuel. Pia, sempre attenta, intuitiva e diffidente di natura, sottolinea a Gianna l'importanza di scrutare attentamente ogni singola mossa di questa nuova arrivata. La sua presenza aggiunge ulteriori elementi di enigma e sospetto all'intrecciata trama, gettando nuove ombre sul passato di Manuel e sull'intricata rete di relazioni e segreti che avvolgono la promessa. Lunedì 23 ottobre. All'alba, l'Ope riceve una missiva che porta con sé una notizia devastante. Salvador, il giovane valoroso che era come un fratello per lui, è caduto durante un cruento scontro bellico. Mentre la luce del nuovo giorno inizia a filtrare attraverso le finestre, l'eco di una promessa fatta a tempo fa risuona nella mente di Lope. In una notte sotto un cielo stellato, poco prima della partenza di Salvador, aveva giurato al suo amico di vegliare sulla dolce Maria Fernandez, come se fosse il suo angelo custode. In assenza di Salvador, la notizia della tragica scomparsa inizia a diffondersi come un'ombra tra gli stretti vicoli del paese, gettando un velo di tristezza su tutti coloro che avevano conosciuto il giovane coraggioso. Tuttavia, c'è una persona che ancora non è a conoscenza del terribile destino di Salvador, Maria. Nel cuore di quella piccola comunità, Maria rimane all'oscuro del dramma che si è consumato, ignara della perdita di chi aveva giurato di proteggerla. Il suo mondo potrebbe essere destinato a un'improvvisa e dolorosa svolta quando finalmente verrà a conoscenza della tragica notizia, e tutto ciò che le è stato nascosto verrà rivelato. Nessuno, nella piccola comunità, ha il cuore o il coraggio di rivelare a questa giovane anima ciò che è accaduto, temendo che la notizia possa spezzarle il cuore. Il peso della tragica verità è troppo grande da portare, e tutti si dibattono nell'angoscia del silenzio. Tuttavia, in mezzo a questa tormentata situazione, Pia emerge come un faro di saggezza ed empatia. Con la sua innata capacità di comprendere gli altri e di percepire le loro emozioni, Pia cerca di orchestrare un incontro tra coloro che conoscono la verità. Spera che, uniti, possano trovare la forza e le parole giuste per comunicare a Maria il terribile destino di Salvador. La speranza è che, con il sostegno reciproco e la compassione che solo gli amici veri possono offrire, possano alleviare il peso di questa dolorosa verità e aiutare Maria a superare il suo momento di sconforto. Sarà un momento di grande delicatezza, in cui l'amore e l'amicizia dovrebbero cercare di lenire la ferita profonda che inevitabilmente si aprirà nel cuore di Maria. Pertanto, Pia raduna un gruppo eterogeneo. Romulo, noto per la sua razionalità in ogni situazione. Gregorio, sempre calmo e riflessivo. Lope, ancora scosso dalla notizia della morte di Salvador e Maria, ignara del motivo del raduno. Le buone intenzioni si mescolano con una certa apprensione mentre si preparano a condividere la terribile verità con Maria. Tuttavia, il destino sembra giocare ancora una volta uno scherzo crudele. L'incontro, concepito con l'intenzione di aiutare Maria a conoscere la verità su Salvador, prende una piega inaspettata. Mentre Maria inizia a parlare con occhi brillanti di Salvador, la sua innocenza e la sua gioia per il ricordo del giovane fanno sì che l'atmosfera sia ancora più tesa e rendono difficoltoso affrontare l'argomento doloroso. Ma prima di proseguire con il resto della storia, ci piacerebbe conoscere la tua opinione. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Adesso, riprendiamo il racconto. Nel frattempo, ha la promessa il rompeblanca, vibrante come una brezza primaverile, portando un raggio di luce e allegria nei cuori di molti. Tuttavia, come spesso accade in ogni famiglia, c'è sempre un dissenso che si fa strada. Jimena, con il suo sguardo penetrante, osserva Blanca con sospetto, temendo che la presenza di questa donna possa portare turbolenze nel sereno cielo del suo matrimonio. La trama si infittisce con nuovi intrecci e tensioni, mentre il passato e il presente si intrecciano in una danza intricata nella vita di La Promessa. Martedì 24 ottobre, all'interno degli antichi muri di pietra della tenuta della promessa, i sussurri e i misteri si intrecciano come fili invisibili, creando una tela intricata di emozioni e sospetti. In questo scenario suggestivo, Pia, una donna di grande perspicacia che presta costantemente attenzione ai dettagli, non può fare a meno di notare la drastica metamorfosi del comportamento di Simona. Un tempo, Simona era una presenza trasparente e sincera, le sue azioni e le sue parole erano un libro aperto. Tuttavia, ora sembra celare informazioni e nascondere segreti, specialmente riguardo a Gregorio e ad altri individui che aveva conosciuto in passato. Questa inattesa trasformazione non sfugge all'occhio acuto di Pia, che cerca di comprendere la ragione dietro questo mutamento di atteggiamento. L'ombra di tensione tra Simona e Candela, evidenziata dai recenti e aspri confronti tra le due donne, potrebbe gettare luce su questa improvvisa trasformazione. I segreti custoditi e i rancori sepolti potrebbero avere un ruolo chiave nel modificare il comportamento di Simona, creando così un'atmosfera ancora più densa di mistero all'interno della tenuta della promessa. Mentre il passato e il presente si intrecciano in questa intricata narrazione, i segreti custoditi potrebbero rivelarsi la chiave per svelare la verità nascosta. Nel frattempo, Simona, con gli occhi carichi di inquietudine e il cuore pieno di preoccupazione, decide di condividere le sue preoccupazioni più profonde con Cruz. In un dialogo vibrante e carico di intensità, rivela la sua crescente apprensione riguardo a Blanca, che per lei rappresenta una potenziale mina vagante capace di scatenare il caos nella sua relazione con Manuel. Simona sente che il suo mondo tranquillo e sereno potrebbe essere minacciato dalla presenza di Blanca e desidera ardentemente che questa donna si allontani dalla tenuta, nella speranza di ritrovare un po' di pace. Tuttavia, nel frattempo, un angolo recondito della tenuta è teatro di una tragedia imminente. Petra, forse spinta dall'ingenuità o dalla crudeltà, decide di rivelare senza velia a Maria il tragico destino di Salvador. Mentre le parole di Petra si sciolgono dalle sue labbra, esse tagliano come lame affilate, insinuandosi nel cuore di Maria. Il volto della giovane, già pallido per la notizia imprevista, diventa cenere, e il peso dell'orrore e della tristezza si fa sentire con un implacabile ferocia. La verità è stata rivelata, ma il dolore e la sofferenza che essa porta con sé sono molto difficili da sopportare. La tenuta della promessa si trova ora sull'orlo di un abisso di emozioni tormentate e segreti rivelati. L'attesa trepidante per il ritorno dell'amato dalla guerra si trasforma in un dolore insopportabile per Maria. Mentre l'eco di queste notizie sconvolgenti vibra ancora nell'aria, un'altra tempesta sta per abbattersi sulla casa dei marchesi di Luian. L'ufficialità della lettura testamentaria del defunto barone, quan viene improvvisamente interrotta da un imprevisto intoppo, il notaio. L'unico in possesso delle chiavi di quei segreti testamentari, si ammala in modo inaspettato. Questo ritardo non solo aggiunge ulteriore incertezza, ma comporta anche una posticipazione nell'agenda della baronessa Elisa. La presenza della baronessa Elisa nella tenuta diventa quindi ancora più attesa e carica di tensione. Mentre la famiglia aspetta ansiosamente l'annuncio dei contenuti del testamento, il mistero intorno a ciò che il barone, quan ha deciso di lasciare dietro di sé, si fa sempre più intrigante. La tenuta della promessa è ormai immersa in una serie di eventi inattesi e di sconvolgimenti imprevisti, che mantengono alta l'atmosfera carica di suspense. Mercoledì 25 ottobre, le sontuose estanze decorate della promessa risuonano di voci e decisioni inaspettate, mentre il destino della tenuta e della sua famiglia pende su un filo sottile. La baronessa Elisa, con la sua grazia aristocratica, annuncia con calma che la posticipazione della lettura testamentaria comporterà un prolungamento del suo soggiorno nella tenuta. Questa notizia fa sì che l'aria si carichi di tensione, specialmente per Cruz. I suoi sguardi già oscuri diventano tempestosi ogni volta che Elisa entra nella stanza, un dettaglio che sfugge agli occhi penetranti di Don Alonso. Egli, desideroso di ripristinare un po' di chiarezza e pace all'interno della tenuta, decide di affrontare direttamente la situazione. Egli sottolinea che, date le circostanze e i legami di parentela con il defunto barone Juan, Cruz dovrebbe essere al centro delle decisioni relative all'eredità. Il confronto tra Manuel e Don Alonso sottolinea ulteriormente le divisioni e le tensioni all'interno della famiglia, mentre il destino della tenuta rimane incerto. Sospeso tra segreti e aspettative, Manuel espone chiaramente le ragioni per cui lui non dovrebbe interferire negli affari dell'eredità, cercando di argomentare che Cruz, date le sue connessioni e il suo coinvolgimento diretto, dovrebbe avere il controllo su tali questioni. Tuttavia, il Marchese Alonso, un uomo di ferme convinzioni, esprime le sue preoccupazioni temendo che la crescente irritabilità di Cruz possa portarla a commettere errori irrevocabili. È determinato a mantenere un certo grado di controllo sul corso degli eventi e sulle decisioni che riguardano la tenuta. Nel frattempo, Blanca Palomar, la fotografa audace e piena di vita, continua a tessere la sua tela di ricordi, immortalando ogni angolo di la promessa con la sua macchina fotografica. Il suo entusiasmo per la bellezza della tenuta non è condiviso da Jimena, che mostra apertamente il suo disappunto per la presenza di Blanca. Tuttavia, nonostante le tensioni tra le due donne, la luminosa presenza di Blanca sembra portare un po' di serenità nella vita di Manuel. Dopo giorni di tensione e disaccordi con la sua nuova sposa, la presenza di Blanca sembra restituire a Manuel una parte della pace che aveva smarrito. Mentre le emozioni e i segreti si intrecciano sempre di più tra le pareti della promessa, la tenuta è un luogo in cui il passato, il presente e il futuro, si fondono in un complesso quadro di relazioni e misteri. Giovedì 26 ottobre, le ombre della tristezza avvolgono Maria, che lotta con tutte le sue forze per affrontare il pesante fardello del lutto per la perdita di Salvador. Ogni angolo della promessa le ricorda il suo amore perduto e il pensiero di non poter mai più vedere il suo volto la tormenta. Tuttavia, una scintilla di lui rimane, rappresentata da quell'anello scintillante che Salvador le aveva donato. Nonostante la sua partenza da questo mondo, Maria decide di tenerlo sempre con sé, come simbolo di un amore eterno e indelebile. Al contrario, un barlume di speranza brilla negli occhi di Giana. La giovane, pur rispettando il dolore di Maria, non è pienamente convinta della tragica notizia. Crede nella possibilità di errori e confusione tra i soldati in condizioni di guerra. Questa speranza, seppur fragile, è un faro di luce in un momento così buio e tormentato per Maria, lasciando aperta la porta a una possibilità di ritorno o di spiegazione diversa riguardo al destino di Salvador. In questo mare di emozioni contrastanti, la promessa continua a essere un palcoscenico di sentimenti profondi e segreti irrisolti. Giana nutre silenziosamente la speranza che Salvador possa essere ancora da qualche parte, vivo e in salute. Nonostante il suo desiderio di proteggere Maria da ulteriori sofferenze, non può fare a meno di alimentare questa fiamma interna di speranza. È un raggio di luce nella sua anima, un baluardo contro la disperazione che permea la tenuta della promessa. Nel frattempo, un sottile vento di maldicenze inizia a soffiare attraverso i corridoi della promessa. Voci su Romulo, il maggiordomo, creano onde di sospetto tra il personale domestico. Romulo, visibilmente infastidito e preoccupato, sostiene di aver condiviso alcune informazioni private solo con Mauro e Pia. Ma entrambi, con fermezza, negano qualsiasi coinvolgimento nella divulgazione di segreti. Il mistero si addensa e le domande si accumulano. Chi potrebbe aver tradito la fiducia di Romulo? È possibile che ci sia un orecchio indiscreto che si nasconde tra le ombre della tenuta, avido di segreti e pettegolezzi? Mentre il sospetto si insinua tra il personale domestico e i segreti della tenuta rischiano di venire alla luce, l'atmosfera diventa sempre più densa di tensione e mistero. Venerdì 27 ottobre, nell'apertura sontuosa dei saloni della promessa, un gioco innocuo si trasforma in un teatro di tensioni e verità nascoste, portando alla luce sentimenti e relazioni intricate. Blanca, forse con un pizzico di malizia o semplice curiosità, propone un gioco da tavolo incentrato sulle confessioni, senza rendersi conto che presto si trasformerà in uno specchio dei veri sentimenti e delle complicate relazioni che si intrecciano nella tenuta. Tra le parole pronunciate e gli sguardi scambiati emerge una realtà inconfutabile. Tra Manuel e Jimena non c'è alcuna traccia di passione o affetto genuino. Nonostante le storie e i racconti del passato, diventa chiaro a tutti i partecipanti che Manuel non ha mai provato veri sentimenti per Jimena. Con occhi attenti e perspicaci, Blanca riesce a vedere oltre le sfumature del linguaggio del corpo e a cogliere le parole non dette che portano a una rivelazione sconvolgente. Manuel è in realtà perdutamente innamorato di Jana, non di Jimena. In questo momento di rivelazione, il gioco da tavolo si trasforma in uno specchio che riflette le emozioni nascoste, scuotendo le fondamenta delle relazioni e portando alla luce segreti che potrebbero cambiare il corso degli eventi all'interno della promessa. Il mistero e la complessità delle dinamiche tra i personaggi si approfondiscono, e le conseguenze di questa rivelazione saranno inevitabili. Nonostante la preziosa informazione che ha scoperto, Blanca decide saggiamente di mantenere il segreto, forse per proteggere Jana da ulteriori complicazioni o per evitare di sconvolgere ulteriormente le dinamiche già complesse tra i membri della famiglia della promessa. Questa scelta riflette la sua sensibilità e la sua preoccupazione per il benessere degli altri, anche se la verità potrebbe avere un impatto significativo sulla vita di tutti nella tenuta. Nel frattempo, Cruz, la Marchesa con lo sguardo penetrante, inizia a connettere i punti in modo astuto e cauto. Sospetta che Lorenzo ed Elisa, nonostante fingano di essere estranei, possano invece avere una storia nascosta, una connessione segreta o un legame che li unisce. La sua mente acuta è sulla giusta strada, ma non è ancora a conoscenza delle doppie intenzioni di Lorenzo e delle intricate trame che stanno ruotando intorno a questa relazione. La partenza di Salvadora, ha creato un vuoto incolmabile nella vita dei personaggi di La Promessa, scuotendo le fondamenta delle loro emozioni e relazioni. Maria, in particolare, è profondamente colpita dalla sua perdita, e il modo in cui reagirà a tutte queste complicate vicende rimane un mistero. L'atmosfera nella tenuta è carica di tensione, segreti e incertezze, e il futuro si preannuncia ricco di sorprese e svolte imprevedibili. Cosa ne pensate di questa implicata trama? Come reagiranno i personaggi a queste rivelazioni? Le vostre opinioni sono importanti per gettare luce su questa complessa storia. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere nulla di questa appassionante SOP. Grazie, a presto!